Ciao a tutti, mi sono appena svegliato, c'è un pochino di hangover. Dunque, ho letto dei messaggi buffi sui social, a quanto pare il nano con la sindrome di Napoleone mi è partita la nave sui social, ho inventato un bel po' di cazzate. Innanzitutto, come cazzo parli io? Sembra che commenda. Deve essere frustrante, constatare che noi abbiamo perduto il sacco. In secondo luogo, scusami, tu ieri mi hai visto, mi hai detto che sono un coglione, io ho abbassato lo sguardo, ma dove? Allora, tu ieri la sfilata di Moschino eri seduta esattamente di fronte a me e non mi hai neanche per sbaglio mai guardato, neanche un secondo, capito? C'era Rebecca seduta, che tu conosci bene, e lo puoi dire, c'erano tutti quelli di Moschino, c'era Gali, tutti, capito? Siamo proprio così alla cazzata, cioè ti sta inventando una cazzata totale. Pensa che abbiamo riso alla fine con Gali, dopo la sfilata dove tu sei scappato in tempo zero, appena è finita, come un ladro. Abbiamo riso io a Gali che sei l'unico babbo della storia che viene alle sfilate di moda con... Dicevo, l'unico babbo della storia di un'umanità che va alle sfilate di moda con il bodyguard. Cioè, tu mi avresti guardato, mi avresti detto che sono un coglione, io ho abbassato lo sguardo. Io ho abbassato lo sguardo perché tu mi arrivi al cazzo al massimo. Ripigliati, curati. M***, è veramente incredibile sta storia, non so dove cazzo l'hai sognata sta cosa. Comunque si sapeva che sei disposto a tutto così, però addirittura inventarti una roba così... È veramente incredibile. M***, è pensato. M***, è pensato. Grazie a tutti.